Un arresto a Castelvetrano per spaccio di marioana. Si scontra con un furgone sull'A29, dopo il soccorso fugge. Realizzata a Mazzara nuove rotatorie per snellire il traffico. Ieri seduta di consiglio comunale a Mazzara. A Mazzara proseguono fino al primo ottobre le mostre Mare Nostrum e i miti del territorio. Mancata manutenzione stradale, rinviata la prova di karting nel circuito cittadino di Mazzara. Nella mattinata di mercoledì 20 settembre 2017 a Castelvetrano i militari del dipendente nucleo operativo e radiomobile, nell'ambito di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti Gabriele Ciulla, 28enne Castelvetranese, venditore ambulante e già noto alle forze dell'ordine in quanto a seguito di perquisizione personale e domiciliare effettuata in via Giovanni Paolo II, veniva trovato in possesso di 100 grammi di sostanza stupefacente del tipo marioana, in parte già suddivisa in dosi ed altro materiale per il confezionamento. Inoltre i carabinieri hanno segnalato alla competente autorità amministrativa un trentenne Castelvetranese nullefacente già noto alle forze dell'ordine, trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo ascisce per l'uso personale. Quanto rivenuto veniva sottoposto a sequestro. Gabriele Ciulla, dopo le formalità di rito e suddisposizione della competente amministrazione giudiziaria, veniva sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio direttissimo. Dopo lo scontro e il soccorso, la fuga è accaduto sull'autostrada A29 all'altezza di Terrasini in direzione Mazzara del Vallo, quando intorno alle 5.30 un Audi e un Ducato Daily si sono scontrati. Sul posto i sanitari del 118 hanno medicato i due feriti, un palermitano di 25 anni e un uomo di 52 anni di Borgetto. Tuttavia il conducente dell'Audi, dopo aver ricevuto le prime cure dai medici, è saltato di nuovo a bordo della sua auto, dandosi alla fuga. Al momento sono in corso le indagini da parte degli agenti della polizia stradale della sezione di Castelvetrano, che cercano di capire perché l'uomo sia scappato. Un altro incidente, ma dalla dinamica completamente diversa, è accaduto a Palermo e ha visto coinvolte sette auto. In via P3, all'incrocio con via Di Marco, dove a causare lo scontro sarebbero state due vetture, una 600 e una 500, che scendevano da Bocca di Falco in direzione viale regione siciliana. Al momento non è ancora chiara la causa e la dinamica del violento impatto, che è coinvolto altre cinque vetture che si trovavano parcheggiate sul posto. Sono accorse due ambulanze che hanno soccorso tre persone. Il conducente della Fiat 600 è stato trasportato al Buccheri Laferla e la prognosi è di sette giorni. Un'altra passeggera, invece, è stata trasportata all'ospedale in grassia con ferite lievi. Caos sulla Palermo Agrigento, dove circa 100 operai della Bolognetta SCPA, società impegnata nei cantieri di ammodernamento, hanno bloccato la strada statale all'altezza dello svincolo di Mezzo Iuso. La protesta è scattata perché la società ha annunciato 75 licenziamenti. Sono 140 al momento gli edili impiegati nei cantieri, a cui si aggiungono circa 200 operai dell'indotto. Sembra che, nonostante le rassicurazioni dell'ANAS, la società contraente dell'opera Bolognetta SCPA ha comunicato ai sindacati la riduzione del 50% delle maestranze e la sospensione dei lavori nei tratti oggetto dell'appalto. I sindacati degli edili di CGL, Cisle e Uil, chiedono un incontro con l'assessore regionale alle infrastrutture e uno in prefettura. Lungo la strada statale Palermo Agrigento si sono formate code rallentamenti. In ballo, hanno spiegato nelle scorse ore Ignazio Baudo, Fenia al Uil, Paolo Danca, Filca Cisle e Francesco Piastra, Filea CGL, non ci sono soltanto i lavoratori, ma tutti quelli che abitano in questi territori, costretti oggi a viaggiare su strade ridotte e a trazzere. Ci auguriamo che i sindaci dei comuni, i limitrofi, prendano parte a questa manifestazione per ribadire la fondamentale importanza di questa infrastruttura per l'intero comprensorio. Basta con i tentamenti, si faccia chiarezza. Sono già partiti i licenziamenti, proseguono e dopo il 27 settembre, giorno in cui si terrà un vertice al centro per l'impiego, la situazione potrebbe precipitare. E tutto questo avviene nonostante la volontà espressa dall'ANAS di aumentare la produttività per rispettare i tempi contrattuali di consegna dell'opera. Non si comprende più, proseguono, quale possa essere il futuro di questa infrastruttura e delle manovalenze che vi operano. Se le istituzioni hanno cambiato idea e vogliono rendere quest'opera l'ennesima incompiuta, che lo dicano senza ulteriori rimpali. Il procuratore generale della Corte d'Appello di Palermo ha chiesto la conferma delle quattro condanne che il 15 dicembre 2015 furono inflitte dal Tribunale di Marsala nel processo che vedeva imputati sette carabinieri, tra i quali anche il capitano Dario Solito, ex comandante della compagnia di Marsala, accusata di omessa denuncia ma assolto per le violenze, lesioni personali e sequestro di persona che sarebbero state commesse nel 2011 nella caserma di Pantelleria su persone fermate per controlli. La pena più severa a quattro anni e mezzo di carcere il Tribunale di Marsala la inflisse al maresciallo Claudio Milito, gli altri tre carabinieri condannati Luca Salerno tre anni e dieci mesi, Lorenzo Bellanova tre anni e nove mesi, Rocco De Santis un anno e sei mesi. Per i primi tre anche cinque anni di interdizione dei pubblici uffici, per De Santis invece l'interdizione dei pubblici uffici è un anno e mezzo, per lui però la pena è stata dichiarata sospesa. Tutti e quattro sono stati inoltre condannati a risarcire le parti civili, tra i reati per i quali è scattata la condanna anche il falso in verbalizzazioni, per alcuni dei casi contestati c'è stata assoluzione. Furono invece assolti oltre al capitano solito anche il carabiniere Stefano Ferrante, anche lui accusato di violenze soffermate, nonché il maresciallo Giuseppe Liccardi. Quest'ultimo all'epoca dei fatti, comandante della stazione Pantelleria, oltre che di omessa denuncia alle violenze, era stato accusato anche di favoreggiamento. Il PM Antonella Trainito, parlando di persone pestate a sangue e chiusa a chiave in cella senza alcuna ragione giuridica, aveva chiesto la condanna di tutti gli imputati. L'indagine condotta dalla sezione di pulizia giudiziaria della Guardia di Finanza della Procura di Marsala, fu avviata a seguito della denuncia di un marsalese, Vito Sanmartano, 43 anni, cuoco, che d'estate si trasferisce a Pantelleria per motivi di lavoro. «Sono stato fermato a un posto di blocco e condotto in caserma verso le 4 del mattino», ha raccontato Sanmartano, «e dopo l'alcol testa, a cui sono risultato positivo seppur di poco, sono stato massacrato di botte». Nel corso dell'inchiesta sono poi emersi anche altri casi ed episodi dello stesso genere, tanto che la procura diretta d'Alberto di Pisa ha individuato altre parti lese. Nel corso della sua requisitoria, il PM Antonella Traenito fermò «Sammartano Vito Antonio, in una drammatica testimonianza, ha raccontato in aula quanto gli accadde la notte del 9 luglio 2011. Milito piecchia con un violento ceffone e insulta il Sammartano, che dopo aver chiesto il perché di tale comportamento risponde «qui comando io». Lì invece avrebbe comandato lo Stato italiano». Il PM ha quindi definito la stazione Carabinieri di Pantelleria non un presidio dello Stato, ma la Repubblica Autonoma di Milito e di altri suoi colleghi. Su Sammartano è stato attuato un vero e proprio pestaggio con calce e pugni, ha continuato il rappresentante della pubblica accusa, citando anche il dramma, il processo di Kafka. Anche Sammartano infatti non sa perché viene sbattuto in cella, il racconto degli accusatori inoltre è privo di contraddizioni. Il sequestro di persona è lampante e si è tentato di lavare panni sporchi in famiglia. Ricordato anche caso Iva Diomed, che a Pantelleria faceva il muratore da dieci anni, anche lui picchiato con calce e pugni, stavolta in una viuzia del centro dopo essere uscito da un bar. Il PM parla di banda di rapitori perché poi, con auto di servizio, i Carabinieri portarono Diomed in caserma, picchiato anche in auto e poi in caserma, dove viene fatto sedere ammanettato con le mani dietro la schiena. Legali di parte civile sono gli avvocati Gaetano Di Bartolo e Leo Genna. Il prossimo 6 dicembre inizieranno le arringhe difensive. In appello potrebbe essere clamorosamente ribaltata la sentenza che il 16 settembre 2016 ha visto condannati a 20 anni di carcere i cugini marsalesi Pietro e Domenico Centonza, di 48 e 42 anni, cugini del boss mafioso Ergastolano Natale Bonafede, per il duplice omicidio dei tunisini Rafik El Mabruk e Aliyah Sid, rispettivamente di 31 e 34 anni. I due nordafricari furono uccisi con colpi di fucile la notte del 3 giugno 2015, incontrata San Peri a Marsala, di fronte all'ex distilleria Concasio. A ribaltare le sorti del processo potrebbero essere le nuove prove portate dall'avvocato difensore Luigi Pipitone alla prima del processo d'appello a Palermo. Negli ultimi mesi, infatti, l'avvocato Pipitone, studiando attentamente gli atti di un altro procedimento penale in cui assiste alcuni indagati, ha scoperto che nell'ambito di una complessa attività di indagini alcune attività tecniche, videoriprese e intercettazioni telefoniche effettuate in periodo in luoghi e nei confronti di soggetti strettamente connessi con i fatti oggetto del procedimento in cui sono stati condannati i cugini centonze. Videoriprese e intercettazioni che a giudizio legale sono idonee ad inficiare la ricostruzione accusatoria recepita nella sentenza di primo grado, in quanto evidenziano l'assistenza di emergenze fattuali di straordinaria valenza dimostrativa a discolpa degli imputati. Secondo il legale, insomma, la notte del duplice omicidio, i cugini centonze non erano nella zona di San Peri, dove furono trovati due cadaveri. E dopo aver spiegato ciò ai magistrati della Corte d'Assise d'Appello, l'avvocato Pipitone ha prodotto un DVD contenente videoriprese e intercettazioni relative alla notte del 3 giugno 2015, nonché le consulenze tecniche di parte, chiedendo inoltre di riascoltare gli esperti che le hanno redatte, tra i quali anche l'ex generale del Riste dei Carabinieri di Parma, Luciano Garofalo. Condannato a risarcire lo Stato per danno d'immagine, il maresciallo Carlo Ronzino, ex comandante della sezione di polizia giudiziaria dei Carabinieri di Trapani, è stato condannato dalla sezione giurisdizionale della Corte dei Conti, sezione d'Appello preseduta da Giovanni Coppola, a risarcire lo Stato con 10.000 euro per danno d'immagine all'arma. Il comandante è stato condannato in sede penale con sentenza definitiva dalla Cassazione con l'accusa di induzione in debita a dare o promettere utilità per avere ricevuto la somma di 2.500 euro dall'imprenditore Vincenzo D'Angelo, su cui stava indagando. Gli elementi necessari per poter esperire l'azione risarcitoria, scrivono i giudici nella sentenza, sono molteplici e non si limitano al discredito subito dall'amministrazione in conseguenza della conoscenza da parte dell'opinione pubblica della notizia della commissione di un reato da parte di un pubblico funzionario, dato che il danno può porsi a carico del dipendente solo se la notizia sia fondata e cioè se il fatto addebitato sia stato accertato. Sono al quinto mese di gravidanza, vendo mio figlio per 10.000 euro. Questo l'annuncio pubblicato da una donna di 28 anni sulla pagina Facebook. Compro e vendo tutto. Il post sarebbe stato pubblicato con tanto di foto dell'ecografia del feto. Dopo l'accaduto sono scattate le indagini della polizia postale che hanno permesso di identificare la donna che è stata sottoposta a una perquisizione domiciliare informatica disposta dalla procura di Catania ed eseguita dalla polizia postale di Milano. La 28enne del Nord Italia è sposata e lavora come commessa in un negozio. L'indagata ha ammesso di aver postato l'annuncio e si è difesa dicendo di aver scritto in maniera provocatoria ed averlo fatto come un troll. C'è un utente che pubblica messaggi provocatori per creare disturbo e fomentare gli utenti. La 28enne non sarebbe incinta e l'immagine dell'ecografia sarebbe stata presa in rete da un gruppo web di mamme. La polizia postale in una nota consiglia di non rispondere ai troll ignorando le provocazioni e segnalando comunque i contenuti che potrebbero configurare reati su cui si può procedere d'ufficio o imminenti pericoli di al fine in ogni caso di verificarne la fondatezza. Coloro che si rendono autori di tali condotte possono rendersi responsabili di illeciti penalmente o civilmente perseguibili. Abbiamo provveduto ad eliminare i semafori dell'incrocio tra Viale Africa, via Castelvetrano e via Borsellino con la realizzazione di una rotatoria. Un'altra rotatoria è stata collocata all'altezza della via dei caduti dell'Alemen. Per alcune settimane le rotatorie sono realizzate in plastica al fine di monitorarne il corretto funzionamento ed abituare i cittadini. Procederemo in seguito alla realizzazione delle rotatorie definitive. Stiamo monitorando ulteriori incroci che ben presto saranno interessati da interventi volte a snellire il traffico e far percorrere le strade in sicurezza. Lo ha detto il sindaco della città Nicola Cristaldi nel corso di un sopralluogo effettuato stamane insieme al comandante dei vigili urbani dottor Salvatore Coppolino. L'amministrazione ha deciso di collocare due rotatorie, una nell'incrocio tra via Castelvetrano, via Leafrica, via Paolo Borsellino e via Monsignor Lozano. L'altra rotatoria è stata installata lungo la via Paolo Borsellino all'altezza della via Caduti e la Laemane per consentire alle vetture di mettersi nella via Castelvetrano, il cui ultimo tratto è assenso unico di marcia con percorrenza verso la via Monsignor Lozano. Ma sentiamo la dichiarazione del dirigente della Polizia Municipale, il comandante Coppolino. Sì, abbiamo realizzato queste due rotatorie in via sperimentale ma soprattutto per, come diceva giustamente, cercare di snellire il traffico e evitare i semafori che creano chiaramente tanto ingorgo nelle strade. Sono in via sperimentale ma è intendimento dell'amministrazione e anche di questo comando di verificare altre situazioni in modo tale sempre con l'intento di snellire del traffico e mettere comunque anche in sicurezza le nostre strade. Ieri seduta di Consiglio Comunale di Mazzara durata circa tre ore. Dopo le interrogazioni l'amministrazione ha ritirato alcuni atti deliberativi riguardanti il bilancio vista la mancanza dei dirigenti. Durante la seduta il consigliere Randazzo ha presentato una mozione sugli stalli pubblicitari e due interrogazioni sulla mancata relazione annuale del sindaco e sulla produttività dell'incarico di esperto del dottor Sanmaritano. Ma ascoltiamo le sue dichiarazioni. Ieri durante la seduta ordinaria del Consiglio Comunale di Mazzara oltre alla ripetuta assenza di questo gruppo di maggioranza che ha bocciato la mia richiesta di prelievo per l'approvazione del punto ordine del giorno sulla questione SNAM che ancora questo Consiglio Comunale non ha esitato ho avuto modo di presentare una mozione e due interrogazioni. Una mozione riguardo gli stalli pubblicitari ovvero c'è un regolamento che disciplina le attività pubblicitarie pubbliche e private del Comune che non è mai stato attuato da parte di questa amministrazione comunale. Assistiamo a una affissione selvaggia che oltre a regare danno al decoro urbano vista la città turistica come Mazzara del Vallo crea neutrovi di danni alle casse comunali in quanto avendo degli stalli attrezzati l'amministrazione potrebbe riscuotere delle cifre importanti. Le altre due interrogazioni riguardo delle questioni molto serie. Una riguarda la mancata presentazione della relazione annuale sull'attuazione del programma da parte del Sindaco. Questo è avvenuto nel 2014, 15 e 16 nonostante vi siano disposizioni normative regionali ben chiare che obbligano il primo cittadino a presentare questa relazione in cui se vince cosa ha prodotto durante il proprio mandato amministrativo. L'ultima e seconda interrogazione invece riguarda un tema molto noto e sensibile ai cittadini ovvero quello del dispendio di denaro pubblico. A cosa mi riferisco? Alla nomina di consulente per il recepimento e finanziamenti europei del dottor Sammaritano avvenuta nel 2014 per un importo di circa 30.000 euro all'anno e poi aumentato nel 2017 a 40.000 rotti che non ha prodotto alcun effetto. Nonostante lo stesso esperto abbia assicurato durante le sedute di commissione consigliare nel 2016 e 2017 l'arrivo attraverso vari canali di finanziamento di circa 60 milioni di euro. Anche per l'esperto la legge regionale prevede una relazione annuale in cui si evincano gli obiettivi raggiunti e tutto il lavoro fatto nel corso della propria consulenza prestata al comune. Allo stato attuale nessuna relazione annuale né del sindaco né degli esperti è arrivata in consiglio comunale. Quindi a questo punto io ho indirizzato queste mie interrogazioni non solo al prefetto dottor D'Arcopellos ma anche all'assessorato regionale agli enti locali perché chiedo che venga fatta luce su queste particolari disposizioni normative e ne vale della trasparenza di tutta l'amministrazione e della pubblicità che tutti i cittadini dovrebbero conoscere sui fatti amministrativi della città di Mazzara del Vallo. Quindi l'auspicio è che si prendano i dovuti provvedimenti soprattutto nei confronti di quelle consulenze esterne che allo stato attuale non hanno prodotto nulla di buono per la città di Mazzara del Vallo. Ho firmato davanti a voi le delibere di incarico per i nuovi primariati in altrettante strutture complesse della nostra azienda. Per alcuni di voi è una sorpresa, sono certo bella, ma per tutti rappresenta il coronamento di un percorso professionale. Lo ha detto il commissario dell'azienda provinciale di Trapani, Giovanni Bavetta, ieri nel corso dell'incontro con i sette nuovi direttori di unità operative complesse nominati con incarico quinquennale. Si trattava di procedure concluse nel 2012 ma ferme in attesa dello sblocco delle assunzioni e che ora Bavetta ha portato a termine. Queste le unità operative complesse con i nuovi direttori. Oncologia medica Antonio Abate Trapani, Filippo Zerilli, urologia Antonio Abate Trapani, Matteo Napoli, urologia Paolo Borsellino Marsala e Emanuele Caldarera, riabilitazione Vittorio Emanuele Salemi, Alessandra Adamo, psichiatria dipartimentale Trapani Pantelleria Gaetano Vivona, psichiatria dipartimentale Marsala Mazzara del Vallo Luciano Asaro, psichiatria dipartimentale Alcamo Castelvetrano Giuseppe Accardi. Sei di voi provengono già da questa azienda, ha aggiunto Bavetta e conosco bene le vostre qualità, mentre un particolare benvenuto voglio dare al collega Caldarera che proviene dall'Arnas Civico di Palermo che entra a far parte della nostra famiglia e che ha un curriculum nel campo della chirurgia urologica di tutto rispetto. Sappiate che un primario non deve essere solo un ottimo medico ma anche un leader con enormi responsabilità e deve saper superare ogni difficoltà. Lavorate in sinergia tra gli stessi reparti dei nostri ospedali della provincia come se fossero un unicum. Stiamo completando la liquida d'assunzioni per il 2017, ha concluso, così da avere un organico adeguato nei vostri reparti organici che completeremo nel 2018. L'esposizione fotografica del Festival Internazionale della Fotografia Mare Nostrum e la mostra delle opere, i miti e il territorio continueranno ad essere fruibili. Le due esposizioni stanno riscuotendo un grande successo e ci è sembrato giusto consentire a quanti ancora non hanno avuto modo di visitarle e a quanti verranno in città nei prossimi giorni di poter ammirare le opere esposte. Lo ha detto il sindaco della città onorevole Nicola Cristaldi annunciando che l'esposizione fotografica Mare Nostrum e la mostra ai miti e il territorio continueranno ad essere visitabili sino al prossimo primo ottobre 2017. Le due mostre dovevano concludersi entrambe domenica 24 settembre. Sarà invece possibile per un'altra settimana, anche in occasione del bluesyland, ammirare le opere. Le foto del Festival Internazionale della Fotografia del Mediterraneo Mare Nostrum sono esposte nelle nuove sale del Collegio dei Gesuiti, nella Galleria d'Arte Contemporanea Santo Vassallo, nel complesso monumentale Filippo Corridoni. Le opere della mostra ai miti e il territorio, nella Sicilia da mille culture, l'arte e la sua contemporaneità da caravaggisti ad oggi, sono esposte invece nella Sala delle Anfore al Collegio dei Gesuiti di Mazzara del Vallo. È possibile ammirare circa 180 opere tra dipinte e sculture del Seicento ad oggi. L'esposizione offre al visitatore uno spaccato, seppur breve e circoscritto, delle opere di quegli artisti italiani e stranieri che ebbero un qualche legame con la Sicilia. Mercoledì 20 settembre scorso, i componenti della Commissione straordinaria del Comune di Castelvetrano, dottore Salvatore Caccamo, dottoressa Elisa Borbone, dottoressa Maria Concetta Musca e il professor Beno e il dottor Luca Mazzone, direttore artistici, hanno presentato la stagione 2017-2018 del Teatro Selinus, che prevede nove spettacoli dominicali pomeridiani e 15 mattutini. La stagione è ideata e realizzata dal Teatro Libero di Palermo. A inaugurare la stagione sarà il 29 ottobre, non una di meno di Maglio Marinelli, liberamente tratto dalle Troiane di Euripide. Un'apertura trasversale da cui si snoda una programmazione attenta alla divulgazione e alla formazione del pubblico, che tra stagione di prosa la domenica in pomeridiana e un fitto e ricco percorso per le scuole porta a Castelvetrano i progetti più interessanti di teatro della stagione del libro, con una particolare attenzione alla drammaturgia contemporanea, dagli artisti siciliani Ture Magro e Flavia Gallo, che esplorano la cultura mafiosa con un singolare taglio intimo e domestico, in Malanova o ancora con All News People di Zac Braff, fino alla riscrittura dei promessi sposi a firma del Teatro Acroma, passando dalla musica popolare di Rosa Balestredi, nell'omaggio la cantatrice del sud della compagnia La Strammula di Catania, formata da Laura Giordani e Mimmo Aiola. Non manca Le Jumont, un percorso teatrale e musicale tra teatro di strade e fisarmonica e poi ancora Enambar, uno che conoscevo, e The Aliens. Il costo dell'abbonamento a nove spettacoli è di 50 euro, ridotto, under 30 e over 60, 36 euro. Il costo del biglietto per la singola rappresentazione è di 10 euro. La Karting Sicilia annuncia attraverso un comunicato stampa odierno che, con profondo rammarico per mancata manutenzione stradale e per ragioni di sicurezza per la salvaguardia dell'incolumità dei piloti, la manifestazione in programma il 23 e 24 settembre 2017, decima prova regionale di Karting, primo Memorial Nino Valenti, sul circuito cittadino di Mazzara del Vallo, viene rinviata a data da destinarsi. Dal 21 al 24 settembre, oltre 3.500 ragazze e ragazzi di età compresa tra i 10 e i 14 anni, accompagnati da circa 700 tecnici in rappresentanza delle varie regioni italiane, prenderanno parte al trofeo con i Kinder più Sport. L'importante manifestazione sportiva, che sarà una vera e propria mini Olimpiada italiana, vedrà la partecipazione dei campioni Under-14 di tutta Italia, pronti ad invadere Senigallia, ed avrà 41 impianti scelti fra 11 comuni della provincia di Ancona, con 31 federazioni sportive nazionali e 8 discipline sportive associate coinvolte, con due delegazioni estere in rappresentanza di Stati Uniti e Canada. I migliori schermitori siciliani Under-14 della categoria ragazzi sono partiti dall'aeroporto di Catania, carichi di buoni propositi e soprattutto sicuri di poter portare in alto il nome della scherma siciliana. A rappresentare la città di Mazzara del Vallo e la sua storia schermistica saranno gli atleti della Mazzara Scherma ASD, Clara Pignoli e Marco Galetti, entrambi vincitori della selezione regionale per la partecipazione al trofeo con i Kinder più Sport. Questa è la delegazione Scherma Sicilia, il maestro Leandro Giordanella, maestro accompagnatore, Marco Galetti e Clara Pignoli della scherma Mazzara ASD, Niosi Alberto, Accademia Scherma Palermo, Paola Pennisi e Bruno Condorelli, Cuscatania sezione scherma, Giulia Floridia, ASD Scherma Modica. Dopo il grande successo della passarella galleggiante, un'altra novità a Custonaci. Per concludere la stagione estiva all'insegna del divertimento unico ed esclusivo, sabato 23 settembre alle ore 10, nella Baia Cornino, si svolgerà l'inaugurazione del Tarzan Bot, un piccolo acquafan, un vero e proprio parco acquatico galleggiante che si sposta come una comune imbarcazione, ma a bordo porta con sé tutto ciò che si possa desiderare per divertirsi in acqua. Scivoli d'acqua, trampolini, funi e tappeti elastici, questo e tant'altro, e il Tarzan Bot. Sarà collocato a largo della Baia di Cornino, circa 10 metri di lunghezza con due trampolini elastici, scivolo curvo e altri sei intrattenimenti. Per gli amanti dei tuffi l'altezza da cui lanciarsi è di tutto il rispetto, 4,2 metri. L'apertura del parco sarà vincolata naturalmente alle condizioni meteomarine. Nella chiesa Cristo Re di Mazzara del Vallo è stata celebrata la cerimonia religiosa per il cinquantesimo anniversario di nozze dei coniugi Brigida Asaro e Gaspare Marrone. In rappresentanza dell'amministrazione comunale ha partecipato su delega del sindaco Cristaldi il consigliere comunale Giacomo Cangemi, che nell'esprimere le felicitazioni alla Corte, ha consegnato la pergamena celebrativa del comune.